Ieri, 19 ottobre 2018, mi sono recato al Circo degli Orrori a Teatro Brancaccio. È stata una serata davvero molto piacevole che non scorderò mai più. È stata un'esperienza che io definisco sublime, aulica, perché in questo Circo degli Orrori è possibile apprezzare tutta la magnificenza del genere horror in primis legato al mondo del cabaret, della comicità, dello scherzo, ma anche, chiamiamolo, dello spettacolo che graziose ballerine e bravi ballerini hanno offerto. È stata una serata davvero piacevole, ripeto, che mi ha regalato momenti di pura emozione ed anche di pura allegria. La cosa bella di questo Circo degli Orrori è che innanzitutto è un circo che coinvolge i presenti, ma al tempo stesso è un circo che offre uno spettacolo coreografico di grande bellezza, di grande efficienza, di grande fascino. A partire dalle ballerine, dai ballerini, fino ad arrivare a numeri veramente pazzeschi, di contorsioni e di quant'altro. Ovviamente non posso, diciamo così, raccontare in maniera completa, quindi esaustiva, quello che questo circo ha offerto, anche perché altrimenti una persona non andrebbe a vederlo, e invece è bene recarsi al teatro brancaccio per apprezzare questo circo degli Orrori, che sa davvero di piacere e di piacersi. Uno spettacolo, ripeto, di due ore circa, ma fatto bene, in cui diversi personaggi si vanno ad esibire nel palco e regalano davvero grandi emozioni. Qualcuno potrebbe pensare che c'è uno spavento totale, sì, probabilmente un po' di spavento per chi non è abituato potrebbe verificarsi, soprattutto nelle parti iniziali dello spettacolo, prima di prendere posto, ma subito dopo il clima si rasserena e sono convinto che i più si troveranno molto bene nell'assistere a questo spettacolo, che davvero sa il fatto suo e soprattutto non manca di piacere. Questa è una caratteristica che devo riconoscere. I personaggi sono perfetti, il trucco utilizzato è un trucco che davvero si adatta molto bene ai visi di ciascun personaggio e i costumi sono davvero magnifici. Cassano alla perfezione nel personaggio che viene interpretato. Non fatevi spaventare, diciamo così, dal modo di parlare che hanno i personaggi, perché è un ruolo quello che loro vanno a interpretare. Ma se qualcuno probabilmente può entrare in soggezione, dico a questo qualcuno, può starci, è normale, anche io all'inizio ho rimpacciato, poi però mi sono notevolmente sciolto. L'importante però è regarsi al teatro o in un altro luogo dove il circo degli errori si va ad esibire per apprezzare uno spettacolo affascinante, sublime, aulico, ma soprattutto che sa regalare allo spettatore e agli spettatori sensazioni di puro benessere, di pura felicità. Io ho riso a crepapelle, mi sono divertito, ho fatto molte foto con i personaggi che si sono susseguiti nel corso della serata e non ho perso occasione di mettermi in gioco, di, diciamo così, prestarmi anche alla situazione che lo ha richiesto. Facci complimenti a tutti gli attori e a tutte le attrici, a tutti quanti i ballerini e alle magnifiche e sensualissime ballerine perché hanno davvero regalato una serata piacevole a me stesso ma anche ai miei cari. Bene, complimenti dunque a voi tutti, a tutti gli attori e le attrici anche perché sono stati davvero magnifici, straordinari ed hanno davvero regalato tutto ciò che di più buono può essere visto. Grazie ancora, un saluto da narratore italiano Arias Leandro.